benvenuti e ben ritrovati al cinema la compagnia siamo la conferenza stampa di presentazione di più compagnia un progetto volto all'ampliamento della proposta culturale della casa del cinema della toscana che sarà dedicata al cinema quindi con tante rassegne anteprime retrospettive festival internazionali insieme al teatro danza musica e letteratura quindi è un vero proprio spazio virtuale dedicato alla cultura in toscana siamo in compagnia della vicepresidente monica barni del presidente di fondazione sistema toscana jacopo di passio di stefania politi la dirigente dell'area cinema di fondazione sistema toscana di camilla toski responsabile della programmazione della compagnia e do subito la parola alla vicepresidente della regione toscana monica barni in tutto questo periodo di quarantena abbiamo visto tantissime iniziative online quindi la regione non si è mai fermata abbiamo però anche spesso ribadito in diversi contesti l'importanza di vedere un film in sala quindi come dire questa di più compagnia sarà una proposta complementare rispetto al fatto che resta centrale ai nostri obiettivi vedere un film in sala in futuro sicuramente anche il cinema così come lo spettacolo del vivo appunto ha bisogno della della socialità ha bisogno della sala quindi insomma nessuno dice che bisogna smettere di andare a vedere i film nelle sale anzi io credo che sia molto importante ecco questa iniziativa che è stata presa da una parte perché non si rescinde un legame con il pubblico che è che è fondamentale dall'altra perché in questo momento di chiusura abbiamo potuto sperimentare delle soluzioni che il digitale ci offre e insomma mi sembra che in questo caso siamo arrivati ad una soluzione matura ecco che non sarà semplicemente legata al momento di chiusura ma che proseguirà quindi diciamo è un ulteriore ampliamento dell'offerta della compagnia e anche un'offerta molto bella ricca interessante ma mi piace molto che ci siano gli orari ecco il fatto di non è semplicemente uno scaricarsi un film ma è il riabituarsi a scandire in un certo modo la giornata e quindi apprendersi degli impegni precisi che per ora non sono ancora di uscire di casa e andare in una sala ma appunto di riprendere le vecchie abitudini anche con il cinema ecco quindi regione toscana naturalmente a fianco il cinema la compagnia ma anche a fianco un po di tutti gli esercenti sappiamo che in questo momento gli esercenti stanno vivendo un momento molto difficile stanno cercando di capire quali sono le soluzioni possibili le misure da adottare per poter riaprire in sicurezza ci sono degli incontri ci sono stati o ci saranno con gli esercenti per capire anche cosa fare in questo momento ci sono stati vari incontri durante durante questi mesi anche per riflettere riflettere insieme sulla situazione sulle sulle misure che potevano essere messe in campo ma anche ci sarà un incontro la prossima settimana martedì prossimo proprio per riflettere sul con loro sul tema delle 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 riaperture la regione toscana si vuole riaffermare come regione che ha diciamo come obiettivo quello della salute dei cittadini ma questo non significa rinunciare a tante iniziative anche culturali che appunto possono essere realizzate possono essere realizzate in sicurezza per questo appunto ci incontreremo di nuovo con con gli esercenti per lavorare insieme a dei protocolli per le riaperture in totale sicurezza quindi questo ci lascia ben sperare per la programmazione futura non solo della compagnia ma di tutte le sale in toscana certamente prima di passare i dettagli passo la parola al presidente di fondazione sistema toscana jacopo di passio perché come si è detto la cultura in toscana adesso è fermata io credo che in questo la fondazione sistema toscana abbia giocato un ruolo importante visto che come dire la compagnia ma anche tanti progetti streaming online quale è stato il ruolo della fondazione quale può essere anche nel breve e medio periodo la fondazione la possiamo paragonare a un alto forno ecco diciamo che non si è spenta così come non si è spenta l'attenzione e lo allo stimolo e anche le indicazioni della regione toscana in tutto questo periodo così difficile così complesso figurarsi per le attività culturali di intrattenimento turistiche in genere noi abbiamo affiancato la regione facendoci trovare pronti e cercando di rispondere per quanto possibile a tutte le esigenze che nonostante una chiusura generalizzata continuavano ad affiorare esigenze che dovevano essere salvaguardate mantenute vive quindi non ci siamo mai spenti e l'occasione di più compagnia cioè di stare insieme dentro l'involucro cinematografico anche in casa propria quindi abbiamo trasferito la casa del cinema della toscana che orgogliosamente cerchiamo di rappresentare nelle case dei nostri spettatori dei nostri fruitori questo non toglie appunto che la fondazione che sta dentro il sistema toscano delle relazioni degli appuntamenti delle attività che stanno dentro il grande contenitore della cultura regionale ecco che la fondazione sia pronta anche ad affrontare una ipotetica fase 2 o fase 3 non è facile non basta accendere spengere l'interruttore perché si realizzino attività e iniziative questa del cinema nell'esempio più lampante di un prodotto che è stato confezionato in queste settimane che ora è pronto per essere presentato al pubblico ma ci sono anche tutta un'altra serie di aspetti legati alla comunicazione istituzionale delle attività regionali attraverso le piattaforme giornalistiche multimediali in genere che abbiamo dovuto tenere accese perché c'era da raccontare questa fase non c'è niente di ludico che abbia caratterizzato questo periodo però lo abbiamo dovuto ugualmente raccontare e poi c'è la parte relativa alla digitalizzazione delle destinazioni turistiche la presentazione della ripresentazione la riproposizione della Toscana come meta che per mille ragioni è da preferire e che dobbiamo anche continuare ad offrire ai toscani senza nessun campanilismo di facciata ma perché è opportuno che tutto il sistema che sta dentro le relazioni abituali delle nostre comunità sia messo in condizione di essere fruito al meglio e poi c'è la parte relativa a tutte le attività collaterali al settore cinematografico i festival tutte le iniziative che sono comunque in preparazione e quindi la fondazione è pronta e diciamo questo forno non si spenge e lo teniamo acceso finché è necessario cioè finché la cultura avrà spazio per potersi manifestare grazie presidente siamo a nastri di partenza stefania ora ci spiegherà anche un po questo nome più compagnia a che cosa si riferisce a un arricchimento tutto sommato esatto noi non vogliamo assolutamente sostituire la nostra sala fisica che sono qui che me la guardo piena d'affetto me la son covata in tutti questi giorni con grande amore una specie di guardiano del faro ma che cosa vogliamo fare veniva detto noi vogliamo raggiungere il nostro pubblico noi come tutti gli esercenti di sale de sé di sale che hanno un'impronta fortemente culturale abbiamo un rapporto molto stretto col nostro pubblico il nostro pubblico ci ha scelto e noi non vogliamo disattendere le loro aspettative quello che ci piaceva è proporre loro un programma come quello che erano abituati ad avere fisicamente frequentabile proposto dal nostro cinema dalla compagnia vogliamo riprendere a proporgli un programma al quale loro potranno pensare di intervenire lo diceva la nostra vicepresidente con degli orari io so che a quell'ora mi tengo un'ora libera mezz'ora libera mi interessa quella presentazione quell'incontro quella conversazione ben ritroveranno così quello che credo sia mancato a tutti noi abbiamo ricevuto molti messaggi ci ha fatto piacere io vorrei ringraziare i miei colleghi perché hanno sempre mantenuto la compagnia vivace con un sacco di attività sui siti e anche un sacco di interlocuzioni col nostro pubblico bene ci siamo stiamo tornando e abbiamo anche pensato credo che l'abbiano pensato un po tutti che questa più compagnia rimarrà anche quando la nostra sala fisicamente riaprirà e ci darà la possibilità prima di tutto di proporre quello che noi facciamo vedere in sala su tutto il territorio della toscana in primo luogo perché questa è la casa del cinema della toscana e quindi più facilmente saremo a portata di sguardo da chi magari quella sera non si può muovere o che è lontano ai bambini piccini non importa pensare a scenari chissà come complicati ma nella vita di tutti magari non si può uscire tutti i giorni e non solo in questo caso più compagnia è accessibile da tutta Italia e addirittura abbiamo previsto che in alcuni casi soprattutto quando più compagnia e la compagnia fisica ospiteranno i grandi festival internazionali che qui hanno la loro casa abbiamo previsto la possibilità di un certo numero di spettatori che potranno frequentare le proposte dei festival o quelle che hanno un appeal maggiormente internazionale dai loro paesi quindi diciamo la compagnia si apre supera i confini geografici non vede l'ora di poter affiancare la presenza fisica degli spettatori questo è importante un'altra cosa che abbiamo messo a punto è la collaborazione con una serie di istituzioni culturali di associazioni culturali con i quali abbiamo sempre collaborato dal tempo dei tempi prima di avere una nostra casa tanto più quando l'abbiamo avuta ne voglio citare qualcuno palazzo strozzi gabinetto viossier fabbrica europa la compagnia virgilio sieni e come dicevo prima tutti i nostri festival internazionali e questo poi camilla toski ce lo racconterà meglio ci consente di avere un palinsesto è un programma veramente bello veramente bello un po l'idea è questa più compagnia che vorrà dire più cinema più letteratura più musica più incontri e anche più scuola vorrei dire perché voi sapete che una delle attività che fa la fondazione è rivolta agli insegnanti e alle scuole di ogni ordine grado col programma lanterne magiche un programma regionale che ormai è carico di anni e carico di gloria ma pieno di energia e di prospettive e dunque qui si registreranno per esempio tutta una serie di lezioni di interventi destinati alle scuole a insegnare a intrattenere e siamo felici emozionati e contenti e speriamo che questo esempio di avere una sala specchio online possa incoraggiare forse anche altre sale a prevedere di avere una sala fisica e una sala virtuale questa nostra sala virtuale si realizza grazie a my movies il nostro partner tecnico che ringrazio grazie mille a stefani politi passiamo appunto adesso a descrivere il programma con camilla toski un programma che si diceva non è soltanto un mettere online dei film no che poi uno così sul divano può guardare quando vuole no qui si tratta di organizzare proprio gli eventi di cinema quindi avranno un orario ci sarà anche la presenza di ospiti dei contenuti anche realizzati appositamente quali sono le novità in programma abbiamo pensato a un programma che risponda a quella che è la caratteristica principale del nostro pubblico il nostro pubblico è un pubblico colto attento puntuale che spesso ci propone contenuti da presentare in sala e per questo ci siamo concentrati principalmente sulle retrospettive ovviamente sul film documentario che contraddistingue da sempre la programmazione del cinema della compagnia e dalla importantissima collaborazione con i nostri partner principali che sono i festival di cinema internazionali rispondendo quindi a questa struttura di programma che abbiamo immaginato partiamo con il Gregor Forrezzori con cui da vari anni collaboriamo che ci propone tre pomeriggi molto intensi il 26 il 27 e il 28 maggio alla presenza di ospiti internazionali ovviamente i finalisti della cinquina cioè i cinque autori che sono arrivati in lizza per ricevere il premio ma anche contenuti che parlano di cinema e avremo Ralph Fiennes e Fabrizio Giffuni che reggeranno per noi per il pubblico della compagnia per tutto il pubblico della rete alcuni brani di Cime Tempestose di Emily Bronte è un programma molto ricco per appassionati e non solo e come da tradizione sarà ad ingresso libero come funziona mi chiedevi Elisabetta sarà possibile prenotare il proprio posto in sala a partire da oggi 22 di maggio dalle una in poi sul sito della compagnia in caso di eventi a ingresso libero altrimenti sarà possibile acquistare i biglietti anche in prevendita quindi qualche giorno prima sempre sulla nostra piattaforma digitale. Abbiamo pensato che il programma uscirà ogni due settimane in modo che il pubblico possa organizzare la propria agenda e selezionare quelli che sono i contenuti a cui potrà essere più interessato. Proseguiremo dopo il premio for the story ovviamente con un documentario non potevamo che aprire così la nostra prima serata e quindi avremo grazie alla collaborazione con Film Middle East Now uno dei nostri festival internazionali in anteprima per l'Italia e di questo siamo un po' orgogliosi You Only Die Twice è un docufilm presentato l'anno scorso appunto durante il festival che verrà introdotto da Roberto Ruta direttore del festival insieme al regista e a cui seguirà un dibattito approfondito con i nostri ragazzi che seguono la programmazione della compagnia Michele Galardini nello specifico che ringrazio per l'attento lavoro che ha fatto in questi mesi. Il film documentario perché ci è piaciuto l'abbiamo selezionato per voi. Come dicevo è un docufilm che racconta come sia stata realmente rubata l'identità di un giovane ebreo durante la seconda guerra mondiale e questa identità sia stata portata avanti fino agli anni Ottanta. È la storia di un parente che va alla riscoperta di quello che il suo genitore negli anni ha fatto, scoprerà quindi un passato duplice e si concluderà inaspettatamente con una bella storia d'amore. È una storia vera, sono le storie che noi predilegiamo e che amiamo di più e che ci è sembrata particolarmente adatta per un'inaugurazione ma anche per dargli un po' di respiro, quindi lo troverete in 3-4 repliche come faremo anche per gli altri film che proponiamo. Velocemente ci tengo anche a presentarvi i due documentari successivi che abbiamo selezionato per voi e che troverete in 2-3 spettacoli a partire dal 29 P.J. Harvey sulla musicista e poi A Voce Alta che è un film che ci è stato concesso da Wanted Cinema che forse avrete visto qualche anno fa al Cinema Stensen. È stato poco in programmazione. Abbiamo pensato che questa fosse l'occasione giusta per riproporlo, dedicato all'arte della retorica. È tradizione, l'università francese lo fa da sempre, nell'università di Saint-Denis c'è un momento in cui gli studenti si confrontano tra di loro a forza di retorica. È molto appassionante e è un'occasione diversa anche per parlare del sistema scuola e università a livello europeo. Lo consigliamo veramente. Come accennava Stefania, in questo periodo di chiusura sono tante le attività che abbiamo fatto grazie al lavoro appassionato dei ragazzi che seguono la programmazione della sala. E una di queste abbiamo deciso di riproporla all'interno del palistesto della compagnia con il laboratorio linguaggio audiovisivo contemporaneo. Come funzionerà? Sono una serie di approfondimenti di 20 minuti circa a cui seguono dei film a tema. E parleremo del regista cileno, lo conoscerete per la trilogia del Cile, Pablo Lorraine. Un'altra collaborazione con un festival a cui teniamo molto, in questo caso si parla dello schermo dell'arte, è l'Artist Film Italia Recovery Fund, che saranno tre appuntamenti in prima serata a partire dal 28 di maggio. È un progetto nuovo. Gli incassi, cioè i biglietti che verranno raccolti con una donazione minima di 5 euro sul sito GoFund, andranno a sostegno di giovani artisti che potranno realizzare opere che verranno poi donate in una copia singola alla GAMEC di Bergamo. Ci sembra un bel progetto, per questo abbiamo deciso di abbracciarlo e sostenerlo. Quindi tutti gli incassi verranno dati in beneficenza e abbiamo avuto la partecipazione di artisti importanti che interverranno con contenuti esclusivi e inediti proprio alla compagnia. E parlo di Doug Aiton, che presenterà Station to Station, proprio il 28, ma anche, lo abbiamo appena saputo, abbiamo appena avuto la conferma, a Shirin Neshat, che condurrà una conversazione proprio prima del film la settimana successiva. Ovviamente per tutti gli approfondimenti potrete sempre fare riferimento alla nostra app e al nostro sito. Parlavamo sempre di rassegne e abbiamo deciso di dedicare una serie di appuntamenti con titoli meno noti al grande maestro del cinema Alfred Hitchcock, per cui a partire dal 3 di giugno e poi il 10 e il 17 vi presenteremo un Hitchcock riscoperto. Tre film meno conosciuti, Blackmail, Murder e Notorious. Tutti e tre, anche in questo caso, verranno introdotti puntualmente dai nostri ragazzi che li hanno selezionati e che li hanno scelti per voi. Ci sarà anche, per chi conosce il programma della compagnia, un appuntamento dedicato agli appassionati di cinema e agli studenti, da Shakespeare al melodramma. Saranno delle vere e proprie lezioni di cinema che si svolgeranno i pomeriggi, intorno alle tre, curate dal professor Socci dell'Accademia delle Belle Arti qui di Firenze, e che ripercorranno attraverso la storia del cinema, da una parte la dramaturgia shakespeariana e dall'altra la nascita del melodramma nella storia del cinema italiano e internazionale. Le lezioni saranno a ingresso libero, sarà poi invece assistere tramite l'acquisto di un biglietto al film abbinato la sera stessa, sempre alle 21. Un'ultima parentesi riguarda l'attività con le scuole a cui accennava Stefania. Sarà un programma specifico e dedicato che si chiamerà Lanterne più Magiche e avremo, prima della fine dell'anno scolastico, che sappiamo prossima, a metà giugno, un appuntamento dedicato alle scuole, esclusivamente per le scuole. Mi dispiace, il pubblico in questo caso non è invitato. Ma poi invece abbiamo pensato a una serie di laboratori ludico-educativi rivolti ai ragazzi delle medie, ai primi anni delle superiori. Un modo diverso per approcciare e avvicinare i ragazzi al tema dell'audiovisivo. Sono tante le proposte sulle varie pattaforme e non vogliamo certo né metterci in competizione né trovarci a scegliere tra contenuti vari e diversi. I ragazzi sono bravissimi a trovare i film online, purtroppo, lasciatemi aggiungere. In questo caso quello che vogliamo fare voi è dargli gli strumenti per imparare ad amare di più il cinema e per invitarli sempre di più a frequentare le nostre sale fisicamente. Grazie a Camilla Toschi per questa bella panoramica. Non semplicissima, perché le cose poi sono tante, naturalmente sono disponibili sul sito. Un'aggiunta, volevo specificare che il film PJ Harvey viene dal festival, cioè è già stato presentato nel corso del Festival dei Popoli ed è importante citare in questo contesto il Festival dei Popoli perché questa conferenza stampa è dedicata ai giornalisti toscani e non solo, ai giornalisti nazionali che quindi conoscono il nostro Festival dei Popoli e che grazie a più compagnia potranno conoscere anche cose che già conoscono, ma insomma continuare ad apprezzare tutti i nostri altri festival che poi ci proporranno altri film e sono tanti. Il NICE, Festival Internazionale di Cine e Donne, River to River e poi appunto quelli citati, lo schermo midolista, insomma i nostri festival sono presenti e continueranno a proporre film. Un'altra piccolissima postilla che faccio prima di ridarti la parola Camilla è che i contenuti di Lanterne Magiche sono su un nuovo sito da oggi online www.lanternemagiche.it, accessibile anche dalla urla www.mediatecatoscana.it, una nuova piattaforma digitale con tutti i contenuti di biblioteca, mediateca, formazione, film analisi, veramente un bellissimo contenitore. Camilla, a te la parola. Sì, ti ringrazio per la specifica sul Festival dei Popoli e infatti il progetto con l'archivio del Festival dei Popoli che non abbiamo ancora annunciato perché sarà diciamo da metà giugno, stiamo definendo gli ultimi titoli, valorizzerà quello che è il suo patrimonio più grande. L'archivio abbiamo selezionato con loro grazie ad Alberto Lastrucci alcuni titoli che vi riproporremo con approfondimenti specifici e incontri con gli autori, quindi che dire, vi aspettiamo. Ok, quindi in chiusura di questa conferenza stampa, se non ci sono altre cose da aggiungere, vi proponiamo il trailer di Più Compagnia che adesso andrà in onda e vi salutiamo. Vi aspettiamo sul nostro sito www.cinemalacompagnia.it Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.